Nei weekend da giugno a settembre ti aspettano i modelli prestigiosi di Dug Auto in alcune delle piazze più belle dell'Irpinia. 18 giugno Volturara Irpina, 25 giugno Ariano Irpino, 2 luglio Montella, 29 luglio Calitri, 2 settembre Abella. Mercedes-Benz, questa estate tra le meraviglie dell'Irpinia. In tour anche le telecamere di Prima TV e Telenostra. Seguici sulla nostra pagina Facebook Mercedes-Benz Dug Auto. Acqua, farina e la sapiente arte delle massaie di Castelvetere sul Calore, caratteristico borgo in provincia di Avellino, sono gli ingredienti che daranno vita alla quarantesima edizione della Sagra della Maccaronara, evento gastronomico organizzato dalla Proloquo di Castelvetere sul Calore e tra i più antichi dell'Irpinia. La Sagra si terrà sabato 12 e domenica 13 agosto presso la piazza centrale del Borgo, celebrando per due giorni il tipico piatto locale la cui tradizione affonda le radici in reti secolari. Condita con sugo o fagioli, viene preparata rigorosamente a mano, partendo da un impasto ottenuto con farina di grano duro o talvolta anche di grano tenero e acqua. L'impasto così ottenuto viene steso e tagliato con un mattarello in cui sono presenti due scannellature di forma circolare, grazie alle quali si ricava la tipica forma di grosso spaghetto. L'appuntamento imperdibile dell'estate erpina, la Sagra della Maccaronara, richiama ogni anno appassionati dei sapori tipici locali della provincia di Avellino, desiderosi di trascorrere indimenticabili momenti in uno dei scenari più suggestivi delle aree interne della regione campagna. Le due serate saranno aglietate inoltre dalla musica popolare di rinomati gruppi folcloristici. Il 12 si esibirà il gruppo dei simpatici italiani, mentre a salire sul palco il 13 agosto sarà l'orchestra Picci Mondo, tradizioni locali, pietanze ottime spettacoli e tanto divertimento, tutti gli elementi necessari a regalare agli amanti del buono e del bello due serate indimenticabili nella splendida Castelvetere sul calore.